Vigilia di Serie B ed ecco lo stadio Biondi. Il rettangolo di gioco è opportunamente coperto da teloni traspiranti. Le minacce di una nevicata abbondante nelle prossime ore hanno consigliato alla società di premunirsi, sperando che oltre al freddo non scendano centimetri di neve. Carmine Gautieri ci presenta la partita. Mister Gautieri, le apprezzioni sono anche per il meteo? Vabbè, ma quello sicuramente, anche se adesso con le protezioni come vediamo i teloni sicuramente qualcosa si riesce a fare di meglio. Però se il tempo è questo penso che non ci dovrebbero essere problemi per giocare. La squadra come sta? La squadra sta bene, è stata sempre bene anche nel periodo quando le cose non andavano bene. Si lavora per ottenere sempre il massimo e questa settimana abbiamo lavorato per ottenere il massimo. Formazione? Formazione? Ci stiamo pensando e sicuramente metteremo in campo la migliore formazione. Solito Lanciano? Quello che ci auguriamo tutti, bisogna dare continuità di gioco, continuità di prestazione, continuità di cattività sportiva. Queste sono tre situazioni, tre componenti che non devono mancare, non sono mai mancate e sicuramente non mancheranno domani. Il Lanciano vuole e deve continuare nella serie positiva al cospetto di un cittadella che non sa più vincere. I rossoneri hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio nell'ultimo filotto. Gli ospiti invece non ottengono i tre punti dall'1-0 sul campo della Regina lo scorso 17 dicembre. Gautieri recupera i quattro indisponibili della partita con l'Ascoli, Amenta, Di Cecco, Minotti e Leali, rientrato dall'impegno con l'Under 20. In attacco dopo la mezz'ora di lunedì, Plasmati dovrebbe partire dall'inizio a centrocampo in odore di conferma Roberto D'Aversa. Per il cittadella, oltre a Gasparetto, tornato in gruppo e perna, Foscarini dovrà rinunciare anche a Giannetti. Potrebbe quindi toccare già dal primo minuto a Dumitru alla sua prima convocazione. E poi c'è Pecorini, neoacquisto, che potrebbe scendere in campo. Fischio d'inizio ore 15, tempo permettendo.